Aggredisce e colpisce con un pugno un giovane in piazza Santa Maria per futili motivi di fronte a decine di passanti e la polizia è costretta ad utilizzare il taser per bloccare l'aggressore. Alla vista degli agenti, l'uomo, uno straniero già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di violenza commessi nelle ultime settimane in piazza San Michele, ha opposto una forte resistenza e una volta immobilizzato è stato nuovamente denunciato per percosse e resistenza a pubblico ufficiale. Quando ha ricevuto la segnalazione la polizia era già nei paraggi impegnata in una serata e nottata di controlli in centro storico nell'ambito del piano d'azione messo in piedi dalla questura contro lo spaccio e la microcriminalità. 150 le persone identificate nel corso del servizio, di cui più di 30 con precedenti penali ma la polizia ha anche sanzionato due bar sempre in piazza Santa Maria per somministrazione di bevande in bicchieri di vetro oltre le 22 e tre persone per ubriachezza molesta ed emesso tre ordini di allontanamento nei confronti di stranieri responsabili di aver violato quelli precedenti. Il questore di Luc, Edgardo Giobbi, fa sapere che i controlli proseguiranno a pieno ritmo per assicurare una maggiore sicurezza nelle piazze principali della città e nei luoghi della Movida ribadendo ancora una volta che la situazione non è fuori controllo e rientra spiega nei parametri di assoluta normalità di una città delle dimensioni di Lucca.